Dura presa di posizione da parte del Comitato Difesa Comprensorio Vastese che con un comunicato stampa in merito alla vicenda riguardante l'incendio della terza vasca dell'impianto Civeta e alla bocciatura della costruzione di una quarta discarica proposta dal privato Cupello Ambiente, denuncia i limiti strutturali dell'arta e la discordanza e le opinioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti. Se da una parte i vertici dell'azienda regionale per la tutela dell'ambiente assicurano che elevate concentrazioni di benzene ed altri idrocarburi sono state riscontrate solo nelle vicinanze dell'impianto Civeta, dall'altra parte il Comitato Difesa del Comprensorio Vastese ritiene infondate le parole tranquillizzanti dell'arta nei confronti della popolazione, dato che non sono state effettuate analisi sulle polveri presenti nell'aria, uno dei fattori più delicati per quanto riguarda l'impatto immediato sulla salute. Il Comitato chiede che si provveda a potenziare l'arta con strumenti e personale adeguati, semplicemente per fare, dicono, quello che fanno altre agenzie in Italia in queste occasioni. Nel frattempo si attendono i dati delle centraline installate nella giornata di lunedì dal Comune, che potrebbero dare qualche indicazione in più rispetto alla presenza di polveri sottili nell'aria. Per quanto riguarda invece l'argomento nuove discariche, non sono passate inosservate le parole del Presidente della Commissione regionale ambiente Marco Vecchio, ex sindaco di Cupello, secondo il quale il piano regionale dei rifiuti non prevede la costruzione di una nuova discarica sul Civeta, situazione che potrebbe portare l'Abruzzo entro un paio d'anni verso una emergenza rifiuti. Dichiarazione in aperto contrasto con quanto affermato dall'assessore regionale all'ambiente Nicola Campitelli, secondo cui l'esistenza di una capienza residua di circa 280.000 tonnellate presso la terza vasca, oggi sequestrata, metterebbe a riparo il territorio da qualsiasi emergenza.